ok 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 aspetta questa un attimo sistemando le cose oh che è già poi donato manco ho fatto la intro cioè ogni volta comincia così ormai è inutile non faccio neanche io l'intro io l'intro non ne faccio più dai cazzo da parte lo vuoi benvenuti in questa live di Axel Axolotto di volta sempre la sprovvista così pure in anticipo sempre e mi dice zero spettatori non è che è una cosa tipo della live scorsa questa no non è della live scorsa perché la live scorsa ma è da qua vabbè non mi faccio domande non mi faccio domande comincio un pochetto prima più che altro per vedere roba ho fatto tre quattro partite salve doni ho fatto tre quattro partite così almeno ho raggiunto il livello quattro e ho potuto no 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 sei anche proprio in anticipo sei tipo cinque minuti in anticipo perché altro lo faccio con la schermata là per aspettare la gente quindi è quel quando vedi questo vuol dire che la live sta per cominciare il trio trio di big man dio santo mantaleo ti adoro il mantaleo è tipo il preferito di tutti il never she verrà preferito di tutti però pure il mantaleo solo per il meme il mantaleo è solo per il meme poraccio è tipo pela dei the suckers o non lo so lever dei i noob più o meno diciamo a livello così la gente guarderà sto programma solo per lui poi vedete il tipo che aspetta il dlc del del 3 con i persuaggi del 2 che sicuramente non faranno mai o tipo faranno ma fra i secoli dei secoli perché c'è il tuo tito in posto di homestuck dio santo che è già dal tipo la seconda superiore basta mi perseguita e quando l'ho finita quella serie la continuano a apparire gli posti è tipo un incubo e you can't fight the homestuck ma sti veramente la gente che vuole assaggiare le due di arcana io non ho visto la prima ma io voglio sapere come ti fanno a fare questi disegni perché non lo so qua come ti fanno come faccio come faccio non so capace a fare queste cose come faccio a fare due disegni dove devo andare comunque ho provato la salmon run chiamiamola così ho provato ho parlato con un orso finto ho parlato ovviamente con mister crab versione orso vabbè si qua è questo qua sono bellissime cose comunque qua ho diciamo visto un pochetto di cose di shop sono bluestack no 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 è un webcomic ci ho fatto pure tipo il modello 3d per la live del pesce d'aprile mentre volevo giocare super amairocrat non mi sono ritrovato a giocare tipo humoracing in gara tipo dove sta si dovrebbe stare qua dove è capelli no dove è maid mi serve quello maid dovrebbe essere questo no ce n'era ce n'era uno dove cazzo è forse versione troll vabbè comunque nel dubbio faccio vedere pure vestito da maid eeeh 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 con chiazze intime cose eeeh 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 cirno no 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 ci dovrebbe l'ho fatto dove cazzo ho fatto una lei dove minchia è finito eeeh come cazzo hanno fatto l'alfabeto adesso eeeh lo dovevo un attimo ricercare ci metterò un pochetto eccolo pure decentrato quanto è brutto eccolo ta daaaan questa qua era tipo la versione mh per chi l'ha vista comunque il pesce d'aprile di fumoracing e si è la mia versione troll accurata visto che comunque come ho già detto canale è fatta a febbraio quindi acquario quindi si e c'è pure il simboletto eeeh ignorante ci sta ah e per quello che avevo fatto vedere diciamo così ta dan gardevoir piace mi piace mi piace gardevoir eh sa che la gente piace c'è pure espressioni facciali guarda quanto è carino si tu puoi dire che tu c'eri comunque ecco qua gardevoir gardevoir eeeh si e praticamente ho messo relativamente poco questo qua ho fatto con scherzi infatti va ancora a texturizzare molte cose infatti i capelli non ha le texture però si ci ho messo un batto di impegno in realtà per farlo cioè qua più che altro devo dare un attimo la fisica ai capelli però sti cazzi si questo qua fatto con i capelli posso fare sac e accoltellarti sac 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 ahah e accoltellero a tutti però si eeeh fighissimo eeeh non voglio dare la fisica a capelli qua sotto però mi costringe l'app quindi so perché non so perché me ne avviene però solo con questo sotto e nulla voglio la fisica voglio che stiano fermi cazzo però eeeh non ci posso fare niente dovrò tipo trovare un modo ok intanto fammi ritornare qua ah tuttudu tutturu comunque braggard devo volarlo sì lo so è bellissimo comunque grazie ad aver aiutato chi riesce a ne allauriarsi lo sarò come sfondo se vuoi posso provare a farci una versione migliore se vuoi posso aiutarti a fare una versione migliore comunque allora qua è il se nello shop di capelli oltre ad esserci per saggi più storti in culo che non te li ricorderei ma manco se ti ci impegni perché guarda che cazzo è non mi viene manco il nome o oma knight come cazzo era quel pokemon di perda di giù non lo so non so manco come descriverlo eh qua tipo non so dove è standard mi dimentico sempre questa parte hanno tipo sì delle abilità cioè roba così poco seria c'è che sei tipo che ne so di shop seri e poi c'è quelli quelli minchioni ah questa qui vabbè sì che è del bazar questa qua è bella mi avevo fatto leggere la scorsa live jevil jevil fucking jevil e spamton io che praticamente faccio di buone foto con i poster sì ho cambiato outfit rispetto alla scorsa live perché volevo qualcosa di più rispetto a quello base quindi solo per i potenziamenti ho cambiato di giuro non so tipo sandali calzini cappello hippie viola tigione inguardabile e questo qua è Pente orso mister crab che ti dà tipo soldi non lo so quindi lascia che ti dia finalmente la squadra è un lavoro onesto con una paga onesta se non si dico che ti troverai benissimo vabbè qua comunque qua ti dice Pente di andare su un elicottero e tipo ti prende e fai alla fortnite e ti butti di sotto e parti con la salmon run il tempo è denaro il denaro serve per gli elicotteri quindi via forza qua ha startato la missione cioè è un pezzo di legno che parla cioè è un ciocco di legno che parla io non lo so che cazzo si sono fumati quelli là della nintendo per crearsi una modalità del genere che figa come modalità guarda qua che parti vabbè e qua qua tipo che parti comunque fanno un animo spiegativo no è pochi ma non è solo spiegatito magari farebbero una serie spin off su di lui ma comunque è quello che ti fa di delle uova di pesce la caccia di salmonello che sono questi così qua che sono di voi i nostri salmonello tipo il nostro salmonello io sto prendendo ordine io sto prendendo ordine un pezzo di legno a forma di orso con un pesce in bocca quello che faccio questo qua è questo qua è l'orribile salmone dorato il gran salmone qua ti lasciano le uova diciamo e tu devi fare per esempio slam dunk con le uova dentro un canestro particolare come modalità non so quanto mi piaccia ma è abbastanza figa dai ma non posso salire non posso oh gioco non me passa lì no faccio pure schifo vabbè dunque dai questa qui questa dovrebbe essere che cos'è è arte ma dovrebbe essere shiver è shiver ah è shiver ci pare che c'è scritto gamberetti scusami non so cosa si ma è veramente figo questo vai mitico mitico beh però se veramente hai c'è un nuovo protagonista che non è ash oh mio dio doppio protagonista non c'è ash anime del secolo comunque io dovrebbero mostrare una cosa che ho visto e la il padre di ash dovrebbero mostrare dovrebbero mostrare il padre di ash una cosa figa una cosa fighissima dai dai finalmente sapremmo chi è quel coso che si è scopato quella figa della madre di ash dai perché allora nero non lo so però se fanno nero dovrebbero fare il bianco anzi una delle prime cose era diciamo erano comunque così vorremmo fare dei conigli e quindi alla fine non hanno utilizzato il bianco e il nero perché diciamo ci si mimetizzava troppo e non si riuscivano a vedere poi hanno deciso così di fare quindi non lo so forse perché magari alcune mappe utilizzano tanto il bianco quindi bianco su bianco non si vede per il rosso poi come fare il rosso e blu diciamo perché altro al massimo cioè è vero che mi dimentico che qua divento barba barba se ci finisco in mezzo marrone e non so quali pochi altri colori avrebbero dovuto utilizzare per farci contrasto però boh però hanno paura delle robe non pensano a blackface perché c'è questo cazzo di calamari c'è non so che ho fatto questo ma come si come si faceva ok ok perché mi è stata diventata come si faceva qua per togliere le cose se ho avuto perché salmone grazie che mi hai trovato questa cosa bellissima la pagina della storia ah guardate muovendo il pad posso fare questo ma quante belle orografiche visita una frizzante città del caos è il posto più in voga di splattonia via dell'anarchia da incalpestare da sentire da vivere collezione speciale due posti a strutville ah ok quindi questo qua è tipo un manifesto di volantini che alla cazzo di cane sono cascati qua che no comunque questa cosa l'avevo già fatto si ok e più che l'album dei ricordi c'è pure il primo che è quello diciamo della è un album della lore diciamo tutto diciamo che sono volantini poster roba di libri così di yinkling e altro la selezione metterà alla prova le due capacità di navigazione attraverso lo scenario fino al traguardo ah posso usare l'ombrello allora però consumo un bel po' eh non lo so l'ombrello non so quanto respira perché però così posso parare mi sa nello spogliato l'olio questo qua non mi piace perché ecco devo tenere premuto per sparare cioè faccio così e non sparo niente quindi non mi piace e questo è il classico ah ma quindi qua non c'è lo salmonello mi voglio però io me lo voglio non so sai però un attimo con l'ombrello ma posso pure sparare attraverso le cose ah che carama carama ranchi non mare sono nemici porca non mi ricordavo che esplodissero così va bene eh questi fanno male voglia ah mi posso parare sono troppo abito ad avere quella normale anche comunque questo volete poi potrà quest'anno l'anno prossimo ah ok no 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 subisco danni e come è stato il volo di pararmi per pure impire a vecchi video meme e spezzoni così di roba che voglio ripubblicare su youtube che serve una cosa figa da fare anche le pezze tipo forse tipo percavolando che sto solo la mattina è un incubo so sti cosa sono un incubo ma è vero non c'è lo salmone vabbè poi fai le bombe vabbè con le bombe c'è una piazza morita almeno almeno questo lo sbiscio lo sbiscio e muori non muore cazzo è immortale immortale sti cosi e si discollega nei pad oh paddoni ciaddoni ah non vanno alleluia alleluia ah yeah comunque io si penso che questo po' non voglio reagirò a vecchie cose stronzate che ho fatto e mi è dovuto di guard questo sai ma come ti penso tipo seriamente l'ho fatto e ho detto stronzate seriamente perché ci sono le squid sister e anche le spadone non so cosa hanno fatto nel 2 visto che ci sono pure là che cazzo sto scoprendo e però ero per e adesso adesso non li ottengo l'ombrello non c'ho l'ombrello però oddio non c'ho mi è ritornato l'ombrello dai però sentite è utile l'ombrello lo prenderei però nell'online non so quanto sia utile ok una cosa che è lo spazio aperto come porta guai quale a questa arena intendi questa palese arena dove ci sono oggetti fatti apposta no volevo fare un'altra cosa volevo va bene volevo mandare addosso l'ombrello volevo fare una provata perché non mandate fanno senti io voglio fare la guglionata siamo guati ma cos'è no voglio farlo saltare in aria non so perché ci stanno sempre squid sister come ci stanno quelle là diciamo il numero adreaga protagonista del primo gioco pure qua ovunque sono ovunque io ho paura che tipo ci dovremmo riscontrare con quello cioè con quella io ho paura che mi dovrò riscontrare con il numero tre e ci ho parlato a casa di un amico di spadun 2 e non è una cosa facile è proprio il dito nel culo e ho paura per questo adremente quella genuina paura quel genuino cago del sabbile che c'è un boss impossibile a battere ecco io sto così io ho paura io ho paura di questo coso qua aspetta oh ciao posso parlare se organizzessimo un concerto qui faremo di questo sì sicuramente la gente verrebbe in sto posto di merda sì ma dov'è la tua cucina signorina e c'è guarda i gemelli diversi ho appena sentito la capitana che diceva la nuova divisione branchia wow vabbè stavendo combattendo Octavio sì no la ricorda faccio tornare cadere che succede mi riporta su spararà corrà e quindi per forza devo prendere di farmi tutto no l'avessi da voi non l'avrei fatto non devo guardare scendo da qua we are the champions my friends ah che qua dice le stesse cose oddio non mi dica che riparta la boss fight io non la voglio rifare la boss fight no 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 però che palle non volevo ricordare riesco di dimenticarmi e basta no 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 meno no no posso posso uscire dagli stage posso ritornare dove ero prima non voglio ricordare non voglio no no come faccio a ritornare dove ero prima non voglio rifare le boss ho pure mi sono sprecato dei soldi per rifarli ma come faccio a tornare indietro come faccio a ritornare dove dove volevo stare ah ok si 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 torno l'alterna si 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 non voglio rifarmi la boss fight da capo per favore no anche se ho capito come ti fa non c'ho voglia grazie ah ah e resta splattata eh adesso sta pure lei qua vicino non prendo un cielo vero quindi è meno bello bello questo cielo diversamente cielo basta che si identifichi come cielo per me va bene cosa sono i cecchini non vedere che con i cecchini non vedere che con i cecchini dimmi che posso scegliere che non governino forza un cecco no tinter tinter carica tinter con mirino 4k questo penso sto parlando una grande cazzata cazzata si ma continua a mettersi la si ma io mi tirano le mani io mi muovo continua a parare questo coso ma quale bersaglio devo distruggere si muove ah ok ok la tot tentativi distruggere il bersaglio ok vabbè ho guadagnato più di quello che ho perso quindi sti cazzi meglio così si siamo più o meno a cernobil forse non lo so dove cazzo siamo in realtà cioè non lo so è pieno di isole ma può restare una strada per quello che so oh ho preso uno di questi abortini e e non ci arrivo non ci arriverò mai senza il cecchino sembra schermato di caricamento di far cadere qua non è il livello di vittoria non è il livello di caricamento e basta attendi questo è qua il po' di caricamento con la mappa non so come c'è cosa da far cry vado di classico non ho letto neanche quello che devo fare ma lo faccio ah è una distrazione funge la distrazione vieni qua salmonello figo comunque non serve che potesse distrarre sta roba cioè demordino no c'è figo e io allora la tua salmonello me la tengo spesso in squadra fanculo rompello viva salmonello ah vorrebbero saltare fuori così tipo pam se salmonello si però qua mi sparano direttamente sotto i piedi sotto i miei piedini da gamer e io come faccio io come faccio aspettate fatemi un attimo di sistemare quel modello il set position che è un po' più delitaloso scatoletta del netton dove è caricato eccolo perché ho sbussato perché io mi muovo tipo tranciatemi le gambe l'antisghiamo proprio l'antisghiamo dodale far crei far crei far crudo va a far crudo ultradurbinator premier di odio quanti mi starai qui sarebbe stato utile le bombe quelle bombe sarebbero state troppo utili però non si può volere tutto dalla vita ok però è abbastanza easy nel caso che spadone sia poco famoso in italia anche nintendo in generale ma in realtà diciamo abbastanza dipende cioè che è stato votato uno con tipo dei migliori giochi online quindi uno dei migliori multiplayer quindi diciamo più che altro deve essere riconosciuto quindi si la gente la conosce più che altro non si rincola più di tanto perché di là c'è ancora un po' che è con la mia da ancora prenderci la mano però volendo posso arrivare con questi stronsatini così devo andare di là per prendermi gli occhiali ui come una pallina io rimbalzerò perché non ho paura se ti perderò perché è diversa da che rosso e blu e se il tuo cuore viola colpirò il ponte giomonti qui che ero per tre ooo se mi 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 è che me mi 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 si mi 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 si mi 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 Che cos'è? Che cos'è sta roba? Aspetta un attimo E voi chi staresti? Oh my god Guarda Io qua non riesco a sentire la musica di gioco A lei morena Gli scolli diventano gamboni A piluccia Man 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 Ma cos'è il team rocket? E' il team rocket Si si Quindi che cosa volete? Dai un momento Tio triglio hai detto Lo stesso di cui ho sentito parlare nello splatcast Si chiama lavoro Dovresti trovarti uno anche due In realtà la nostra vera passione è fare i banditi Niente può fermarci Team rocket Un attimo di raggiarmi qua perché Stavo inviando la porta e non tanto parlano Allora sono nessuno Ti scordi di entrare in mezzo quando vedo nome Può chiamarmi Pinoccia A soldi e pesce Alla svelta E' arrivato Mantaleo Proprio così Ok si è seriamente il team rocket E' il team rocket Più bello Di fatto che abbia mai visto No non voglio così Morena scusa che ti interrompo ma Ti sei guardata intorno Abbiamo fatto il botto E chi si aspettava che ti stesse un posto così Il tesoro era proprio qui sotto il cradere Per tutto questo tempo E adesso è il nostro Man man Altro che occhio di pesce Hai la vista di un palco Pinoccia Quindi proverà a fermarci o no? Anche comunque non puoi Prenderemo noi tutto il tesoro Wow hanno ripassato bene la parte Sono di veri professionisti Non hanno il minimo timore Ormai la gente non ha più paura di nulla Foracce dai Io un po' di paura ce l'ho Man man Giusto per la cronaca Per me la conversazione è finita Il tesoro è nostro Mi augurerei in bocca al lupo In bocca al lupo di mare Ma non ne ho la minima intenzione Ci peschiamo dopo E scompaiono così Quindi loro sono i banditi Mi sembra di essere lì con te numero tre Alla vostra destra ecco un misterioso razzo Sono bravo con i guidatori Vabbè sì sì Qua ci sono dei peli Là ci sono altri peli E numero tre Riceva un signore molto forte dalla sua Potrebbe essere il nonno Andiamo a controllare Perché il nonno ti picchia in qualsiasi buco Pertuccio In canalatura che esista C'è qualcuno può dare Che cazzo di piccare un gps Nel nonno Ma uno Migliore Cosa hai trovato Ha trovato qualcosa Dimmi se qui c'è qualcosa Oh sì Immaginavo E poi c'è qualcosa Quindi devo lanciarlo là sopra Allora devo trovare un modo Per saltare Da qua Alla sopra No Forse Girandolo Vabbè non lo so Perché qua mi dice che c'è una cosa Qui Ha nascosta I'm stupid Un pesce più interessante di me Eeeh Un problema Cioè tipo al Un pesce rosso riesce a finire i pokemon Io no Blup 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 Tadà, attacca a sorpresa, figlia del puta! Uh, salto sul piscio, sono mortissimo! Ma quanto sei scemo, vieni qua, vieni qua! Ma quanto sei scemo! Ma si vede che noi in Kling siamo meglio degli octariani, cioè, ma si vede! Cioè, niente razzismo contro i calamari e i polli, però, cioè, si vede che noi i calamari siamo molto meglio, dai! Fa troppo male, fa troppo male, fa troppo male sto coso! Ok, fa male, ma gli finisce il caricatore su un cecchino! Kennedy, Kennedy, c'è Kennedy, sono Kennedy, sono Kennedy qui! Mi sento un po' come Kennedy, ma non voglio esserlo! Non voglio esserlo! No, 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 non sono un presidente! Lo sparatemi, non sono un presidente! Non sono un presidente, non sono un presidente! No, 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 no! Non sono un presidente! Please don't kill me, don't shoot me! I-I-I'm not the president! So, befriending with me! Two shot, I know, one shot, I know schigosi! Ok, ma pure il movimento mi si vede! Mi notano pure quando mi muovo! Eh! Io ho creato a trovare un modo, eh, però senza bombe! Eh, perché devo trovare un modo? Eh, cazzo! Qua è complicato, adesso non c'ho la voglia di farlo in maniera decente, ma devo venire a voi, fatemela venire a voi! Fatemela venire a voi! Eh... E poi devo trovare in una situazione in cui posso poi ricaricarmi l'inchiostro! E perché così, eh, non gli arriva! Bene! E lo posso dirigere solo su E! A culo! Ce l'avevo quasi fatta! Mi è rimasto uno fra dei quelli grossi! E devo fare un casino per cercare di prendermi, eh! E questi livelli qua non contano quelli da che ti compri per l'online di questi livelli! Quindi qualsiasi potenziamento che ho, vale un cazzo qui in questo momento! Devo trovare un modo per salire... Che cazzo! Devo trovare un modo per salire là sopra! E allora ho un'idea! Prendo quando sei in una posizione giusta, prendo, lancio salmonello e prego il Dio che tutto quanto ha dovuto avere il verso giusto! Provo a fare una cosa! E no! Salmonello vai! Oh, salmonello, grazie! Alla fine, infine, sono gli speditosi, ma alla fine risultano comunque in qualcosa di positivo! E non ho perso neanche una venita, anche se ho quasi rischiato di perderle per colpa di quegli cecchini calamaroni giganti! Non è che là un colpo ti toglie l'armatura, l'armatura è una vita, cioè, ti vuoi insciottano praticamente! Che ti prendono senza le armature speciali! E questo qua è il problema! Oh, cosa c'è la Dio di Stella? Che le orecchie appunta un po' di... Gli octariani gravi... No, non esistono più, sono tutti quanti ciccio chiamerò 89 gli octariani! Belli, belli, belli ciotti sono gli octariani qua! Mmm, che vuoi grabituare! Cioè, perché per quanto riguarda sto a viaggiare a noi o non tu! Cioè, oppure loro viaggiano insieme a noi! Cioè, non posso guardare dentro il tubo e lo sminchiando a telecamera, no? Ma... no! Ok, con quello anche ci devo andare! Ma ZUKA KANGAN! Dovevo utilizzare! Però non sono rufi! Perché altrimenti è stato più facile con le bombe! Però non c'ho le bombe, io ho salmonello! Qua dovevo forza utilizzare questo! Ah, che spunti così da dietro da un golino? Allora... Ah no, deve essere liberato! Ma perché lo devo voler liberare? Ma sta tanto bene là dentro! Ma perché devo voler salire da qualche parte per prendere una stupida chiave? Ma non voglio! Ma... Perché? Perché? Se io non lo voglio liberare, voglio restare là! Perché perché lo devo fare? Allora... C'è la chiave, ovvio! Quindi ora devo risalire su! Dai, però sono tutti enigmi semplici e semplici! Sì, ma poi pure voi c'hai la nera piccola della mia! Ti abbassa di qua! Ah no, si alza! Ok, no! Lo squalo! Ma c'è uno squalo! Ma è nuovo questo? È nuovo lo squalo? Ma lo squalo è nuovo? Eh, lo squalo è nuovo! Perché c'è lo squalo? Devo fare il passo per prendere la chiave? Sì, ok, devo uscire il porto da tagliare qua sopra! Però cioè... Ne sono nuovi alcuni di questi! Almeno a me sembrano nuovi, perché l'uno non c'era! Non so dove sono le due! Devo semplicemente fare così! Ok, andare... Ok, andare... Dove devo andare, scusa! Eh, aspettate, mi sono un attimo perso! Ok, qua ho preso il checkpoint! Ah! Eh, ok, no! Perché la via ho detto c'è, ma c'è questa altra merda da fare, no? Eh, come lo raggiungo con quello? Devo andare quest'altro lato, mi sa! Mmm... C'è qualcosa che non ho notato, forse... Lo posso notare pure il tipo mezzo sotto sopra? Eh, non lo posso sapere! Ah, se faccio per così! No, non va bene! Mmm, quindi andrò in un altro modo... Quindi lo risale qua sopra e andrò in un altro buco? Quest'altro qui ne dovrei scendere... Mmm... No, non posso rassagliare così! Mmm... Posso rompere così il vetro? No, non posso! Ho spiegato una volta e la cazzo di cane! Ah, dove... C'è qualcosa di speciale qua? Non sopra qualcos'altro... C'è qualcosa che mi sto perdendo? Perché qua mi fa semplicemente scendere qui... Ragazzi, aspetta, c'ho un attimo... C'ho un attimo... C'ho qualcosa che non cosa... Adesso dico... Io ci devo essere un interruttore che non sto vedendo! Un interruttore che non vedo... Ah, se la non c'è niente... La non c'è niente... Qui... Per di qua non c'è niente... Sarà che non c'è niente... Di qua non c'è niente... Allora, guarda, non c'è un interruttore... C'è un qualcosa qua che mi sto perdendo... Non capisco cosa... O dove... C'è una stanza qui che non ho visitato... C'è quella... Salmonello... Fatti lanciare bene, salmonello... Forse mi devo buttare dall'alto... Forse devo buttarmi qui dall'alto... Mi devo buttare da qua... No, allora non me li posso buttare da qua... Scusa... Eh, ma come ci faccio ad arrivare? Eh, di qua che stanno le piattaforme? Ah, c'erano delle piattaforme pure... Eh, chi cazzo capiste? No, no, no... Non scende le giù... Oh... Oh, chiave presa... Ottolini, chiavato... Livello superato... Facciamolo per tornare indietro... Eh, però così muoio... Come si torna indietro... Non mi dite che mi è stato incolato... Cioè... Fatta la cazzata... Non mi dite che ho fatto una cazzata... No, no, no... No, 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 no... Eh, no, eh... No... Cazzo, ma poi che sta a fare sto cazzo di livello... Allora... Allora, di qua non si può andare... Eh, mi servirebbe un qualcosa... Eh, ora non posso fare il... Su... Il twirl, swirl, coso... Mmm... Eh, ma... Ok, ok, no, ci arriva... Penso che non ci arrivasse... Sempre che ci arriva... Oh, erano lontani, scusa... Sembano più lontani di quello che pensavo... Che fanno le cose... Non capisco quanto sono distanti... Certe volte la città non prende un cazzo... Certe volte va di per lontano... Cioè... Come fate capire... Adesso che c'è stato da star là... E mezzo spruzzo a la stessa distanza... E ci ho messo due secondi... Che cazzo che là ci arriva... Quando da là... A qua... C'è tanto che sembra che ci arrivasse... Certe volte la città va come un cazzo di... Ma ero dipende tipo dai potenziamenti che prendi... Tipo le valigette... Lattine e ste altre stronzate... Perché c'è... Io non posso spiegare il fatto che... Certe volte ti prende lontanissimo... E certe volte c'è nel davanti un nemico... E non lo prende... Vabbè ma tu sai che forse sta parte qua... L'avremmo quasi conclusa? Allora... C'è questo... Di qua cosa c'è? Soltanto tipo delle teste dell'isola di Pasqua... Poi se gli inkling sono fatte in una maniera... Perché deve essere l'isola di qualcosa così? Perché ci sono le teste dell'isola di Pasqua? Dove siamo in realtà? Cioè... Questa qui è la chiave tra il mondo nostro... E il mondo degli inkling... Ma è una zona tipo degli optariani... Eeeh... Non lo so che c'è... Da dove c'è questo... Bo... Ha un molluscato... Lo splasher classico... Oh! Super mollusco... Oh! Super mollusco... Sì ma non me lo fa fare... Sì ma... Come faccio? Scusa... Cioè come... Come... Che devo premere per aggrapparmi? Non c'è... Non c'è un tasto da premere... E' carico... A R... A R... A R... A R... Figo... Non lo sapevo... Oh nice... Nice, nice... Sium... Siumissimo... Mi sento tipo grenin... Sembro grenincia... Cioè guardatemi e ditemi che non sono grenincia... Perché sono grenincia... E invece questa qua è tipo una ulti... Non so quel gong che arma la metteranno in combo... Non so anche che arma la metteranno in combo... Però... Figo... Rompò tutte le scatole... Siumo... Squidman... Uomo Calamaio... Ah qua basta fare di questo... Però voglio fare la cosa di figa... Squidman... Guarda numero 3... Oh ma è l'opera lontanissimo... Quella lingua può poter dire... L'op... L'op... Yoshi... Yoshi... Mh... Quella sei da arrampicare moleste cose... Mh... Adesso sto qua... Devo aggiungere la sopra... No ho sbagliato... Mh... Allora... Ok... Ok... Una cazzata praticamente... Deve ho fatto tanto... Ho detto un minimo di mille... No... Volevo prendere... Eh... Volevo fare... Volevo prendere... Quella là... Volevo fare... Una caponata... Ok... 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 Voglio prenderne tutte quante... Le uova di salmazio... Uova di salmazio... Mh... Cioè... Mi sento con... Grenincia adesso... Mi sento tipo... Più come la merda... Guardate... Mi sembra come quel cancano di grenincia formace... Più come la merda... Ehm... Andiamo... Perché fanno ridossi... Se non c'è... E fa un cortetto... E fa un cortetto... E fa un cortetto... E fa un cortetto... Allora... Ehm... Volevo... Non posso... Questa... Devo scendere giù... E... Fare così... No... Ok... Devo scendere per forza... Eh... Che palle... C'è una vigilanza... Iper precisa... Dunque... Non ho mai visto... Legget così... Arabbilo su Twitter... Allora... Per quello che so... Si può essere bannato da un botto di gente... Non so neanche il perché... Cioè... Non so cosa cazzo faccia Legget... In tempo libero su Twitter... A volte... Di solito... Fanno tutti quanti i violenti di Twitter... Più di lamentarsi... Lo spattacolo è stato... Spattacolare... Ah... Così... Il po' pam... Ok... Cosa è successo stavolta con Legget... What did happen this time... Cos'è successo questa volta... Cosa ha fatto... Normalmente non so neanche cosa immaginarmi che ha fatto... Cioè... È che... Da un po' che tipo... Non... Cioè... Ogni tanto si leggo quello là... Che dici... Che commenta... Il balcone... Cosa ha detto... Ounque... Su... Sonic Frontiers... Eh... Sì... Beh... Se vuoi... Vuoi venire... Vuoi dirmi... In live... È stato come spam con i miei amici... Fammi dire... Cosa ha fatto quale Legget... Per... Cosa... Sta prendo qualcosa di Legget... Probabilmente per i bot che spammano i DM... Ehm... Legget... Nuovo... Ok... Eh... Cosa è successo qua? Non capisco dove sia la sua rabbia... Non capisco dove sia la sua rabbia... Cosa è triste Non so qua cosa abbia commentato Però devo vedere Meglio cosa sta succedendo Allora il bot Si cioè è pieno Oppure che tipo si iscrivono al canale E tu sai tipo che cazzo sei Che cazzo sei Battimi Non ci può fare niente Cosa sono quei bot Esistono E si spammano E ne tenono un cazzo di ragione Così che va la vita La vita E' un po' come una scatola di cioccolatini Tutta una merda No figlio di puta Dai che cazzo E' qualcosa che c'entra con Elon Musk Con Elon Musk Cosa ha fatto il moschetto di sbagliato Cioè E' eliminato l'hashtag Loli E' fatto cose più o meno positive Che in realtà non voglio dire un cazzo Però magari per lui sono positive Dai Ok adesso dove Oh un altro foglio Ok Un'altra pagina di libro Coloropoli Ehm Splattonia Hanno metodi diversi di servire il mochi Il mochi di vongole Chi cazzo è la bestia di sata Che si aggiunge i mochi di vongole La ricetta alla Coloropoli Prevede che i mochi Il mochi venga farcito con la vongola Mentre gli splattoni Fanno l'esatto contrario Aggiungono anche una spozzata di sesamo Un po' di salsa piccante Da leccarsi i tentacoli Ah quindi è un po' tipo Il arancino arancina Che magari è un po' diverso Così in forma diversa E quindi diciamo c'è questa lotta culturale Tra come cazzo si pronuncia Una cosa che praticamente è diversa E il quale si era meglio dalle due Guarda sappiamo tutti che Palla di risoprita E ovviamente è meglio Dunque evidente parla un po' così Fa fatica Perché sto con Sto un po' raffreddata Quindi c'è il nodo da pado E sto con gli elastichetti Quindi Ah Ho tutti gli elastichetti da parecchio La mia cultura dentale non finirà mai Un altro Arancina social credit Più 99999 Tanto tempo fa Le nostre terre furono quasi completamente distrutte Da un'inondazione Tutto sembrava perduto Quando tra le luci Apparvero Ma poi questo qua sopra sembra una persona Ah no è un inkling Ok Ma se non questo è normale Invece no Che c'è Gli orecci a punta Quando tra le luci apparvero E si unirono Tra le luci apparvero E si unirono Per porre fino al disastro Gradi gli abitanti Organizzare un festival E sollevarono in alto Tre palanchini In segno di Riverenza Cosa sono i palanchini What are the palanchini Palanchini Ah i piedi di porco Si chiamano palanchini Ma è una cosa nuova Comunque Alzare un tre piedi di porco In segno di riverenza Grazie alle tre luci Che hanno salvato Tutto quanto La città Grazie E ovviamente Intonarono il classico canto Splattoniano Del presidente Siamo con te E meno male Che stil duce Penso che Ah non basta Avesse togliere questo Toglie tutto Si Ma qua è come Gli oggetti E roba nascosta Da poter sbloccare No no Aspetta Se qua Mi lascio No no Se non li faccio adesso Mi voglio compiere Prima tutta quanta Un'isola Sium Comunque Le lotte interne Da siciliani Chi Chi la guarda Dei pupazzi Molto simpatici Che fanno Tipo Là in sicilia E la rotta E la rotta I sicoli I sicani E che chi Interprete Come Arancina Aspetta Non armi Come Come devo fare Scusa Ah è solo Salmonello Ma qua Tipo Sono i livelli Fatti Soltanto Per un personaggio Ok Quindi Va Salmonello Salmonello Vai Salmonello Vai E Takeshi Che sta diventando Sta roba Vai Muoviti 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 Vai Letti Muoviti 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 Come se ne c'è Devo prenderlo Salire Sì 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 Allora 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 Ok quindi da qua c'è da scoppiare questi Di qua è coloro questi Mentre il tamborello di qua Allora devo collegarli Allora è fare tipo così No no salmonello non finire in mezzo all'acqua Vabbè non so se vanno bene o non vanno bene Che causen Allora io ce l'avevo i riflessi pronti Ok Quindi facendo così dovrebbe andare adesso Sì È immaginius Guarda come cascano queste ciodole di vine Guarda come giù di gente Ok Mentre là comunque dobbiamo dare un modo per raggiungere quella parte in alto No cazzo Sì inutile Allora è perché è complicato prendere il timing Sì inutile Sì inutile Sì inutile Ma vaffanculo Dilemmelo prima Ma vaffanculo Dilemmelo prima Cerchè di dirmi qualcosa Ma io non ascolterò Cosa vuoi il salmonello? Ah mi chiede qua che ha qualcosa Forse da qua posso sbloccarmi per salire Sì o no? Sì? Grazie salmonello Grazie Grazie salmonello Grazie Non lo fa No non lo fai Eh appunto Cioè dovresti essere abbastanza monti per poterlo fare Due o venti volte Se vogliono fare Dobbiamo sbloccare la zona Prima si blocca la zona Poi cominciamo dopo il resto Va bene salmonello vai dove cazzo ti pare Fatto qua Fammi prendere tutte quante le uova le cose collezionabili Avviviamo alla grande Liberi facciamo ciò che vogliamo Questa città è un calderone E noi ne domescoliamo Non ne posso più di chi si atteggia Mitilico Voglio scadermi così tanto da prendere fuoco Eh non penso sia una cosa bella Poter prendere fuoco Almeno per i protagonisti di Fire forse no Per i protagonisti di Fire forse non vorrebbero Poi se lo dici tu Costa 10 mi sa La fine sono quella che costano Perché sono tutte cose particolari Devo sopravvivere 60 secondi Potendo solo diventare calamaro Ah devo saltare Dovrei resistere un minuto Cazzo Hop 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 Mi sento un po' come se stessi a rigiocare a Cosa del Taker Mi sento un po' come se stessi giocando al Taker adesso Eh Guarda che cazzo di bordello Come faccio Riprovo Come cazzo faccio Non so neanche Ditevi se c'era stato qualche Non ho più visto il Taker Ad uno c'ero vicino Adesso ce ne stanno tre E cazzo E cazzo Quindi penso che dopo che Pusca 6 secondi Se no E nessuno Non ho altri Allora 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 Voglio prendere uova di salmone 10 secondi Dai ce la sto facendo Sento un ticchettio Ce l'ho fatta Dai Oh è complicatello Più che altro perché io prima guardavo più che altro le scatole più che le onde sonore che mi arrivavano in faccia Infatti Eh Mi sono schiattato male Scusate di dirmi salmonello Che dubbio è che mi stai vendita in questa zona Un'altra È sopra E come ci arrivo là sopra però salmone Capisci pure tu salmone Come vanno le cose Decorazioni Non c'è niente Ah che stavo sopra Sorry sorry I'm stupid Sorry Ok Ok non c'è niente qua E qua comunque ho sbloccato un'altra rampetta Più comoda Ma senti ci sparo io Subito essere immondo Peso della roba per le armi Penso Eh non quelle invece per le armi Costo da rente Queste cose ora sono tutti Allora diciamo Penso superflui Se mi faccio Adesso qua E poi vado alla prossima isola Ah il secchio Secchio quello figo però Io penso il numero uno Avesse una destra enorme Uh testone Uh testone Ah mi aiuta con altre piattaforme Ah perché se no c'è Non le poteva raggiungere Alche ne so Splatti di splatti Dai molto più del 20% Guarda ha splattato quasi tutto Oh però poi guarda con Il coso Cioè Secchio va un botto bene A metà testa Circa Più o meno Sul per giù Dai Ho spattato Mora tutto quanto Stolato Eh sì perché Eh il dietro qua Non l'ho proprio calcolato Ecco perché Ah Ah però due Ne posso lanciare Dai Devo fare ogni singolo Centimetro Cos'è Power wash Simulator Ma con l'inchiostro Il bianchino Simulator Finalmente Mi sa di power wash Simulator Sta roba Allora faccio Salgo per così Si sto Inchiostrando Più superficie Possibile Ma è pieno Di Merdo Stai un po' Insultando Ah Questo è tipo I video soddisfacenti Però Come in versione Inking Ho lasciato Un cuore Qua dietro Però Lo distruggerò No Io non lo lascio A me Dal mio lavoro Deve essere Il cento per cento L'inchiostro Ok Tipo La sul naso Non è al cento per cento Adesso È veramente Perfetto Oh Questo è il mio Capolavoro This is The perfect Ah Soddisfacenti Magnifico Fantastico Perfetto Tipo Se non mi vedo A fare tutti Di quanti Sti livelli Superflui La storia La finisco In poco Ho visto Che mi perdono Le buttanate Adesso Aspetto Dove stava Verso Ok Di là Stavo andando Alla direzione Giusto Stavo 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 Oh Io c'ho Tino Qua Per Decolarmi Poi Il Cazza Fa L'armadietto Cosa Che Nella nostra Scuola Poi Ce ne Andiamo Vogliono Mettere Gli Armadietti Tipo Stile Americano Quindi Nei corridoi Gli armadietti Sai che Intanto Nella scuola In cui stiamo Non durano Due secondi Se staccano Gli attaccapanni A mani Prendendole A pugni E aggrappandoci Di sopra Secondo degli armadietti Che cosa Che fine possono fare Che non tipo La stessa Di quel povero Attaccapanni Il coso A parete Che praticamente Tipo A Veragioni Povero 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 Attaccapanni Oppure Cosi I condizionatori Povero Povero Scusi, scudo. Questi qua? Ecco, c'hanno uno scattino. C'hanno... C'hanno uno scatto. Non mi chiedevo più di tanto, però vabbè. Vuoi vedere poi che succede? Cioè, se perdo tutte quante le libri, che succede? Non so se lo scopriamo mai. Sicuramente sì. Ah, oh. Sto qua davanti. Addio. Uh, c'hanno i diversivi. Forse non mi servirebbe. Mmm. C'hanno qualcosa lì. Guarda, devo fare il chilo da dietro. Guarda, mi sguscio. Sguscio un botto un po' un po' un po' un po' difficile. Scusi. Anche se lo sa per contenere. Vamo! Ma che è il primo gioco di livelli con le spugne? A me lo devo utilizzare per difendermi? Sì, lo farò. No! Sì, penso che sono una meta ancora di merda. Ancora mi devo imparare a gestire bene col pad. Qua sto giocando un po' tutto quanto storto. Qua sto giocando un po' tutto quanto storto. Qua sto giocando un po' tutto. no no sono stupido non mi guardo le spalle sei stupido che altro? allora la abbiamo fatto prima quindi vado tu di bombe cazzo c'è un mini scattino del cazzo con le doppie pistole che è comodo però mi ci devo abituare e lo ignoro è un mini scattino del culo è un mini scattino del cazzo è un mini scattino del cazzo oh ho fatto schifo in sto livello ho fatto cagare tantissimo per bonus prima volta manco me lo merito quel bonus ma è rimasto sì 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 un po' quello che volevo dire è rimasto solo la prima lì solo era meglio 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 di livelli veri e propri ce ne stanno pochissimi però eh lo puoi fare con i secondari con gli altri quindi solo che non c'erano no cazzo devo soltanto per stare immaginando un culo hai sonno? bro fai un cazzo tu resti qui tu dormi con me e tu ti faccio addormentare oh te ne vai tu al massimo resti qui tu non hai capito come funziona qua io sarò il po' tu anche la tua fatina del sonno il tuo morfeo pronto a farti entrare nel mondo dei sogni tu dovresti stare qui per sempre sarò il tuo incubo peggiore e il tuo sogno migliore ma adesso qua ormai lo dovresti sapere bene ah non posso però salire no wow posso salire sopra no vabbè vabbè dovevo guardarmi qua però non c'avevo voglio dai me lo va attivare pure lui tu continui a picchiare quel coso vieni salmone tu continui a picchiare quel coso cososo cosa che questo è che è molto più sciallo del preghedente lo so quindi ma è un pochetto più rilassoso ma devi combattere contro il sogno tu sei più forte del tuo sogno bro eh Tu non ti chiudi Quindi non c'è più di qua di chiudi Tu di qua mi sei resti attivo Per 24 ore 7 giorni su 7 7 giorni su San Ma che caccio Non c'era togliersi di tutti i piedi Impossibile Si vede la corsa Se si riesce Dai 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 sbrigati Dai che devo Ok che ho fatta Chi giochi dentro almeno con uno stretching Che cazzate Ok E qua basta romperlo Non so che cazzo si è servito ad alzarla fino a fila barriere Ah Per farmi prendere questo Quanto vuole non prenderlo Sì grazie Perché è il mio spirito da collezionista di sta cippa Mi costa ringe E' il mio spirito da collezionista che mi obbliga Io in realtà non lo vorrei fare ma il gioco mi costa ringe Dai che forse arrivano Non c'è una boss fight Dai No eh Dai No 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 Sono diventato un barbapapà E' un mio incubo Non sono un furri esterino peloso Ah mi sei già sasso Sì Potrei aver dovuto fare qualcosa prima Però sti cazzi Oh Il futuro si volta indietro Quindi che boss sarebbe Cioè perché se sono del due non li conosco Se sono dell'uno Allora forse sì 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 potrebbe essere il nonno Ovviamente è la prima isola Alto là No FRAI Morena E' il primo boss Che cosa penso Tu molli tutto Ti unisci alla mia banda No Poi risolverò in stile splattoniano eh Ma va bene Danzeremo all'ultimo lentagolo Eh L'arme morena Danzeremo all'ultimo Il mio pare Ah io devo rispedire addosso Salmonello Fai qualcosa di utile Eh ma quali sono le vere code Vabbè perché qua non c'ha le bombe Vieni qua Vieni qua che ti sparo Vieni qua figlia di trota E lo rispedite Tre contro Cosa devo fare Dove Ah ho capito Eh vabbè Ho capito Vent'anni dopo ho capito Vaffanculo ho capito Ma sono tipo lentissimo Numero 3 Dai Dai non c'è bisogno di chiamare i pezzi grossi Beccati questo Ma è tipo una cosa di serpenti Sì ma questi qua che devo attaccare non ci riesco Sono troppo Sono troppo Sono troppi Oh ok adesso lo devo attaccare Sì ma non Mi rompono l'armatura Mi rallentano Non mi posso muovere Mi frizzano Sì ma non mi posso muovere I can't move it Move it anymore Cambiamo disto cioè No 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 Non di nuovo il vortice Sì ma non posso muovermi Non mi posso muovermi Come devo fare Che gli devo rancare contro Sto salmone Sto salmone di merda Sto salmone di merda Sì ma Sì ma pure No dai raga raga Qua mi serve il premio per il mongolino d'oro Porca puttana Non riesco neanche a respirare Non riesco neanche a respirare Porca troia No 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 Morena Ha rotto il cazzo con queste morene Moreno diamo Diamo moreno Non posso C'è un'altra arma Aspetta Allora C'è un fazzoletto Qualcun, qualsiasi cosa Carta da culo, giornali Autosquarelli Foglie di giornali Cazzo ne so Ah, lui ce l'ho Non posso respirare Non posso respirare C'è un'altra arma Allora Allora . Allora Grazie. Grazie. C'era un gioco in cui hanno utilizzato dei carlini, non mi ricordo se era tipo Halo, qualche gioco che hanno utilizzato i carlini per farci i versi di mostri. Quindi vuoi quelli si... Grazie a te! Grazie. 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 Ma che cazzo dammi il tempo Porca troia mi spara a 2 mm da me Vaffanculo che in alcune mappe Spara a 20 km Quando ti dico non so se ci arrivo E non c'era da niente Era per questo E che cazzo Vaffanculo Oh adesso posso farlo Ritorna Vabbè scappia iniziata Che santo fare il coso con le seghe Il tostapane del dio merda Cioè io li rimpiango quei cazzo di cosi I boss Sì ma Cioè di così non mi può sparare Come faccio ad ammazzarmi Mesa desi Ecco è qua è Un attacco che mi sta sulle palle Cioè io li evito più che altro Non so se li devo evitare o li devo colpire Perché non ci riesco Ah ok Non so se li devo colpire tutti Che palle Non mi devo potenziare le armi Vaffanculo Sto cazzo mi potenzio Sto cazzo mi potenzio Sto cazzo mi potenzio Eh mi sa che mi tocca per forza No no Perché altro è l'albo dell'abilità Che riguarda che vorrei mostrare Da scorsa live E dove potenzia Sto cazzo mi potenzialmente nulla mi palle Sto cazzo mi potenziale Sto cazzo mi potenzialmente nulla 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 mi potenzialmente null forse ce la faccio pure senza cosa si morire come ghiambretti di tratto potere della morena io ho paura di com'è più muccia se questo qua è soltanto il primo chi qual è l'ultimo boss sarebbero facili se vado a sbloccare delle cazzo di abilità ma se le ignoro è l'albero dell'abilità cambiamo di scala ecco il diluvio non è cazzo devo attaccarle tutte più che altro poi mi avrebbero delle bombe posto di sto pescetto del cazzo trasformazione morenide cioè no 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 fermi 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 che cazzo è sta merda non quest'altro no no aspetta posso dove ne posso aspetta che vi aumenta solo il salmonello vado si pistola elite aumenta la cadenza di fuoco della pistola elite ti ho pensato dove aumentare e mi potenzio pure qua se poi utilizzerò quell'abilità più che altro e quale deve essere carica e il cioè più danno ancora deve far fuori le morene così quindi serve pure il sapere più o meno quali sono le morene vere e quali no ecco quello riduce la quantità di inchiostro non so quando lanci il salmonello se no c'è bomba splash è una bomba che squadra il colore sta tirando le patate a terra aumenta la capacità di recuperare la divisa ah non posso allora per adesso ne miglioro questi di questa qua giù se il tempo sarò magari ho 5 no adesso forse dovrebbe già andarmi meglio eh bel soundtrack è bello che hanno aggiunto l'albero dell'abilità figo molto figo ma adesso comunque ecco spaderà pure più veloce quindi quando mi arrivano addosso devo pure fargli più male eh sono quelle cose belle che hanno aggiunto e dici figo posso lasciar te classica cosa con classica arma almeno dici metterò qualcosa di particolare che ti fa dire cazzo hanno meno migliorato comunque hanno cambiato un minimo anche il coso diciamo la modalità storia la campagna e beh mentre te parli ho migliorato la modalità storia Ecco, è molto meglio Molto meglio, molto, molto Molto meglio Quella abilità è molto meglio, cazzo Mi butto giù subito Con la cadenza di fuoco pure aumentata, guarda, c'ho quasi la ulti già carica Eh, no, è già carica Cioè, prima non ci sarei mai riuscito a fare una cosa del genere Eh, però qua è pezza di merda qua, porco disco Eh, però mi lasci il tempo, porco dio, oh Non ci sta, niente tempo, vaffanculo Questo è veramente tanto riflessa Ma mi vai dal lato già colorato, dio, madonna Oh Mi va dal lato che non è colorato Per colorare ci metto venti anni Sicuramente è una ventola così No, oi, 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 oi Questa qua fa malino Eh, qua più che altro dovrei fare una cosa Mi carico la ulti Questa qua la ultima Questa qua Questa qua Questa qua Vieni qua Oh Oh ce l'ho fatta finalmente Oh E' finita? E' finita qui? Grr sei molto più forte di quanto sembra Il trio tornerà te l'assicuro Verai che il team Sì sì mi mancherai Ma che cosa? Ma è il team rocket seriamente? Esploso Ma è il team rocket Cos'è? Cos'è questa schermata? Che cazzo sta succe? Che è successo? Comunque abbiamo quindi finito la seconda isola Un lavoro con i ricci Numero 3 E ho ottenuto questa Cosa? Ma il nonno E' un tesoro Almeno penso che lo sia Possiamo tenerlo qui per ora E' pronto? Mi richiedete? Passo Che nessuno ne ascolta Mi sentite? Passo E' il nonno Nonno dove sei? Eh Stella Marina Tesori miei State bene? Eh se stiamo bene No aspetta Siamo noi che dobbiamo chiederla a te Stai bene nonno? Oh certo Cioè sono chiuso in una specie di stanza scura Il che non è proprio l'ideale Per l'eroe vado E ripasso Non pare niente di avventato Stiamo tracciando il tuo segnale Quindi saremo lì tra poco Chiamaci se succede qualcosa Beh sono felice che sia ancora tutto intero Forza Diamo un'occhiata al segnale che sta inviando Numero 3 Se vuoi tornare a un buon ritorno vicidente Il menu potrebbe essere utile a un certo punto Ah quindi vuoi ritornare pure ai punti di prima Ma qua è qualche aperturato Lo bello è che puoi tornare dall'ultimo checkpoint Ad una boss E ti fai tutto da cavolo con il primo Eh lo so Soprattutto se sei come me Vaga Stupido come la merda Che non c'ha voglia di prendere E fare le cose in maniera Come andrebbe fatto Ma anche in maniera giusta Come andrebbe fatto e basta Quindi la devi prendere in del culo Se vuoi fare di voi Io che dico vabbè Dai me lo faccio pure Se non c'ho i potenziamenti giusti Vai Cos'hai trovato? Grazie salmonello Ficca pure qua Nella mappa Queste cose nascoste Un po' tutto Ficca che sto scradurando Allora Allora Qua fammi salire Allora E da qua posso Aspetta il tempo Sì 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 Intanto qua sto sbloccando Semplicemente Le zone della mappa Sto vedendo cosa Al monello dove mi porta Ok Qua che sta a livello Come mi sa che quello La che ancora non ho Quello l'ho fatto Ok Faccio questo qua Avvicino Allora Ma ho Due secondi L'ho fatto Me lo segna Sì ok Me li segna Quelli non fatti Ok perfetto Allora intanto Da finirmi Di sbloccare la mappa Penso di averla Quasi sblocata Tutta Oh Se vede così Che cazzo Dovrei sbloccare Però Non lo so Mai dire mai Mai dire mais Mai dire mais Morales Un cd Disco d'oro Non è il 90% Di questi Tesori Ti appaccottia O roba Che tecnicamente È inutile No Salmonello Non ti suicidare Salmonello O le sardine Le sardine Piccoline Piccoline In canada Le sardine Piccoline In canada Io non le ero Trindollà Paglionchino No Paglionchino Qualcuno Questa qua Mi sblocca Un livello Va bene Verso Vero Va bene Andiamo a fare Up Ok Non niente Almeno Di livello Ne è rimasto Solo uno Ok Allora C'è soltanto Quest'altro qua Che è rimasto Della Prima isola Intanto Pupisco la bima Al massimo Passiamo un attimo Alla terza E vediamo Cosa riuscimo A fa Io so che però Tipo con una cosa Qua Di livelli Ragazzo Con l'arco È più Complicato Diciamo Visto che il foglio Avviene un po' De livelli E roba così Eh Complicato L'arco Bello Bello Ecco O è da ravvicinato O è da lontano Naccio Della Madonna Oppure Ok Ok Se carico poco Ok Sporano in un modo Se no in un altro Ok Viene lo Oh è vero che non mi vedo è vero che non mi vedo qua versi gioiosi di piccolo calamaro fa così freddo che non riesco nemmeno a lavarmi le mani per quanto è fredda l'acqua e mettiti l'acqua galda e mettiti un po' di hot water eeeh 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 tu non dirai nulla ai tuoi compagni perchè in realtà non mi hai mai visto ti stai confondendo ah è utile solo contro quelli volanti penso questo lato così solo se stanno in aria se no è scoputo come lo schifo si ma io volevo fare una cosa se sto stronzo muore vuol dire che muori pure tu l'oggi del cazzo sto gioco oh vabbè qua però sono semplici quindi è una fortuna il fatto che sono semplici che se erano cristiani veri quel cazzo che li avevo battuti eh io però voglio farle appiccicare dietro quella parete è difficile perché c'è il ritardo del dio can sono ritardati i poverini si ma c'hanno gli scudi si è scomodo con una merda l'altro lo sai ma si è buttato di sotto wait sotto a minute si è buttato di sotto bro oh ciao ciao Oh ma quando cazzo scoppiano Porco disco Non colpisce un cazzo Non toglie un Dio merda Io sto Io odio questo tipo di armi Manco così funzionano Io che cazzo mi devo inventare Scusatemi Sì vabbè però Ho un tasto e non funziona neanche Vai Oh porco dio Oh ma fanculo senti Fanculo vado al mondo 2 Non spara in verticale Sto cazzo di coso Spara come gli pare Come cazzo si mette in verticale l'arco Non si mette in verticale Quella merda Ho premuto tutti i tasti Tutti Tutti Non si stava mettendo in verticale O devo fare qualche manovra Di Cristo O non sta merda Non si mette in verticale Gesù merda La fabbrica pace E quede Che di nuovo non dovrebbero fare un cazzo Gli analogici L'unica cosa che serve L'analogico E' appunto qua Per salmonello Che la non c'ha vivo Dai che cosa Amore Che stanno Di livelli Roba No eh Un cazzo Bene Questo mondo qua E' scarno Non ci stanno Ok Ma c'è un livello qua Il tuo amico mirino Già so che sarà una partita Di merda questa Perché faccio schifo Col cecco Cos'è questo? Ah no Ok Questo cos'è? No che forse è questo Ok Is this Sonic Non cazzo Saltare Eh ma quando Ditemelo Non mi dico Quando devo saltare Che ne so Non c'è Non c'è schifo C'è E' in unica vista La profondità Di campo Che cazzo Di cose E' tutto Appiccicato Vabbè Che cazzo Come hanno C'è tanto uova Devo guardare avanti Thank you E l'unica vista Si Mi 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 vabbè ho missato alcune cose però sti cazzi per me sto proprio il cazzo di me quello con l'arco adesso adesso mi partono le bestemmie e non va bene questo non è buono c'è un livello qua il denaro con interruttori quindi sarà sicuramente uno come quei livelli precedenti con tutti quanti interruttori da dove vai si ok a gente ponte ok 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 è solo questo per interruttore che mi porta in un piano ancora più sotto del sotto ho detto devo salire se c'è una cosa che vogliono i giochi sono gli archi e sciacchini questa c'è un video che sposte Niente mi fai Apri Dovevo farlo? C'è qualcosa che devo attivare Ah mi devo andare da quest'altro lato? Ah no non si sale di qua Vabbè da qui dove sono arrivata Pensavo tipo ci fosse sporcato pure qualcosa Per risarli da quel lato Ah ce n'è uno pure qua Di interrotto ma chissà Vi maleteo sbloccato adesso? Ok non attivi niente Penso non attivi niente Poi non lo so Ci dovrebbe essere qualcosa Ma non capisco cosa No Volevo sforgermi ma non ci riesco Non sono capace Ah quindi qua c'è questo Poi c'è questo Poi c'è questo L'ammazzare Qua ogni tanto non prende i golpi Ok si va a mettere là Allora 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 ok 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 ho già premuto tutto quindi di qua cosa dobbiamo fare ok spingi verso di qua no forse sparare con un arco in verticale devi saltare e sparare e sedare allo stesso tempo non lo so se posso dire che non lo so l'arco non c'era io non lo so ma qui più che altro adesso a me viene il dubbio qua cosa devo fare c'è un interruttore che ho lanciato sicuramente ok c'è qualcuno qualcosa che ho lasciato sento un rumore ogni tanto ma non capisco da dove viene non capisco da dove viene non capisco da dove dovrebbe essere no allora compro una spada qui sopra la stanza e cose grazie e mazie quindi c'è un punto dove devo andare non lo sto capendo dove eccolo 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 va qua ok sto spostando cose sto spostando cose che stanno andando in buchi e ho sbloccato il ponte ma già ho messo qualcosa eh questo qua mi colora pure in verticale dai che è come cosa questa però che è un po' più denigmi un po' più così quindi aspetto almeno penso siano tutte qua almeno che di momento si appunti quelle cose che si sbloccano così ah oh salmonello mangia ok ve lo provo un attimo vedere qua se posso sbloccare altre cose infatti fa voglio fare un attimo qualche livello così cioè me lo posso permettere adesso te l'ha detto di male verso che era ricerche che mi ha detto di pure con gli altri livelli mi offre questa è una bella gettata un labirinto labirinto no sono stupido ho visto sono così facile da ingannare sono così facile da ingannare sono così facile da ingannare veramente è vero come il campo può essere un paura lanciabile è vero non è vero non è vero se va tipo così ok c'è non eh c'è c'è eh come faccio grazie ma non è d'aiuto dai confonditi no girati 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 cazzo allora hai l'abilitazione in verticale quindi vuol dire che adesso è più o meno affrontabile figo però sto livello bello eh mmm mmm più che altro qua sono sempre a portata di fuoco di sto bastardo mmm allora con un piccino del chiostro bro sali sali porca madonna sali allora come faccio adesso a salire per di qua penso almeno qua non mi sta vedendo quindi penso che devo andare a vedere qua a livello di logica ok ok l'ha ammazzato e e poi come cazzo torno e come finisco sto livello basta che ti vado in cima cioè come 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 faccio addio fin ok ok sono uscito dal labirinto verticale eh sì oh alleluia ok ok ah 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 oggi ho il camero e faccio qualche altro livello di merda no come lo vedete poi andare al sito darei ma apparentemente è troppa melma per poterci andare Dove avete come il sito d'ore? E se ci sono come i cutscene? Digivo qui Fammi vedere qua Più che altro non me la faccio un attimo così Perché poi mi faccio i livellini così Superflui Diciamo se ho camera Ok qua è enorme e c'è il ghiaccio Così intanto comunque l'ho sbloccata Quindi adesso posso vedere tranquillamente così E volare al sito One Nella teliera Nella teliera Forse in verticale si spara Sì in verticale si spara Ok saltando Guarda così diventa molto più comodo Aspetta forse qua devo Vabbè lo spare Guardando In alto Vabbè poi capirà bene qua la mira Ok Ok sì perfetto Quando si go e go 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 Ah Ah volevi uccidermi Invece no gli ho ucciso te Qua Ah 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 Non voglio essere a fare la battesana Sì Ero questo Eh sì però si devono riunire Ok Ok Vediamo che sia dopo questo qua Lo so Sono sempre figlio Cioè l'amico che si guarda l'altro Venire tipo fatto fuori Saltato in aria Cioè non si fa domande Non si fa domande Ma io devo far girare Eh devo Quando si rigala giù Ok Che comunque è un dino nel culo Eh comunque un dino nel culo Ma un po' di meno se si salta Qui che la Marco Tricca l'amaro Calamaro Chi che è la Marchi Vivanna Marchi Quindi penso che questa cosa si arriva comunque al 100% Quindi ci vuole dare Proprio così Soltate per il video Che sono usciti E non va bene Chart E vediamo sti cazzi YouTube niente di che No ok Ok non è libera al 100% Perché poi c'è un altro pezzo di milma Ok Ok voglio liberarla al 100% Da tutta la melma Dell'isola questa Anche se i capelli Cioè là c'hai i capelli Diciamo Quello non sembra male Dovrò togliere sti capelli Dovrò farti a zero Quindi mi spiace Ok Quindi i punti Cos'è Dovrebbe essere libera Dobbiamo capire qualcosa Mini Che devono essere zone un po' più colorate Tipo qua Ho involontariamente trovato qualcosa Ho involontariamente trovato qualcosa Lanciandolo totalmente al ragazzo di cane Forse qua Mi viene collezionabile L'altro disco d'oro Sì anche qua Mi illumina i probabili collezionabili Non vedi niente Perfetto L'occo qua E mi metto questo Così Mappa E qua Ti dà un po' degli altri qua Da sbloccare Che poi mi dice Che devo fare tutti i livelli Con tutte le armi Ma è tutto nel culo Non so se staccarà adesso Boh Ti potrò lasciare Ora che tempo Dovrei averci tempo almeno Non lo so O mezz'ora prima O dieci ore in ritardo Nessuna via di mezzo O starto Tanto ma tanto prima O starto dopo Tanto Ok Ok Allora Sì sì Ok Quando comunque vengono i dubbi La ponce da lei A levarmi Ok Allora Queste qua si sbloccheranno Al massimo Tipo qua vedo Di off camera Di prendere E buttare Qua Salmonello Tipo addosso a tutto Quanto questo Mucchio di schifo Ah e qua cosa sono Ah la backstories La rinascita della civiltà Intanto vi vengo un attimo qua Se volete screenshotate Perché potrebbe essere Magari così La potete leggere Ma intanto Penso che te lo trovate Tranquillamente Nei video di qualsiasi Altra persona O anche solo su google Io qua me li rileggerò Appunto Se me lo ricordo Off camera E beh È stato un onore A stare live Anche oggi Da me Scricciolo Pandoru È tutto E beh Goodbye E la prossima live E stay tuned Stay tonno E la prossima live E la prossima live E la prossima live